Inaugurata al Palazzo della Provincia, la Sala Nullo Baldini, che dopo gli interventi di restauro è stata riaperta al pubblico. All'evento erano presenti le massime autorità cittadine, assieme al Presidente della Regione Vasco Errani e all'Europarlamentare, nonché ex Presidente della Democrazia Cristiana, Ciria Godemita. Quando Gian Grande mi telefonò per invitarmi a questa cerimonia, dissi no, che c'è giù. Lui aggiunse, c'è giù perché in questa sala tu annunciaste la tua candidatura a segretario della Democrazia Cristiana. Gli dissi è vero, però ora la storia è cambiata. Poi mi aggiunse che avrei intrattenuto un dialogo con Errani, persona che conosco quasi come Baldini, però so chi è, so chi è, qualche volta l'ascolto alla televisione, so come opera. E dissi subito sì, perché la mia convinzione sta che la ragione principale, se non una delle ragioni principali, che la crisi che stiamo attraversando è legata alla cancellazione della memoria. La sala, che per un lungo periodo è stata utilizzata come archivio della provincia, diventa ora un nuovo luogo d'incontro per la comunità ravennate.